Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Perde la vista dopo 38 operazioni per riprendersi dall'aggressione dell'ex marito. Carmen Tarleton è una donna di 50 anni che ha imparato a convivere con una condizione difficile. Quando aveva 38 anni, il suo ex marito l'ha aggredita a colpi di arma da fuoco e l'ha bruciata, lasciandola con gravi ferite in oltre l'80% del suo corpo. Quella notte, Carmen ha sentito che qualcuno è entrato in casa sulla mattina presto, ha pensato che fosse un ladro, ma è stato il suo ex marito a picchiarla con una mazza da baseball. Anche lei ha sentito le sue ossa speciarsi. Ha urlato alle sue figlie di 12 e 14 anni di chiudersi in bagno e chiamare i servizi di emergenza. Herbert, l'ex marito di Carmen, ha tirato fuori il detersivo chimico e l'ha versato su tutto il corpo e il viso. Rimase sulla scena del delitto ed è stato arrestato dalla polizia, due anni dopo è stato condannato da 30-70 anni di carcere, l'anno scorso è morto all'età di 62 anni mentre scontava la pena. Dopo essere stata vittima del terribile atto di abuso, è stata sfigurata, due anni dopo ha subito un intervento chirurgico per fare un trapianto di cornea e nel 2013 le hanno fatto un trapianto di viso che le ha migliorato la qualità della vita. Tutto andava meglio per Carmen, avere un nuovo volto le ha sollevato l'autostima e le ha dato la fiducia per andare avanti, ma purtroppo poche settimane fa il destino la sorpresa con una diagnosi devastante. Ha perso la vista dopo aver contratto un'infezione agli occhi, la sua famiglia sta raccogliendo denaro per poter ricevere un altro trapianto di cornea. Nel 2007, l'ex marito di Carmen ha fatto irruzione in casa sua e le ha bruciato l'85% della pelle lanciandole addosso un detergente chimico, erano passati solo pochi giorni dalla loro separazione, che apparentemente era stata in buoni rapporti nonostante avessero litigato sul vendita della loro casa. Si sono sposati nel 2001 e hanno avuto due figlie. L'acido ha bruciato completamente la pelle degli occhi, delle orecchie e di una narice di Carmen. Dopo l'aggressione, Carmen è rimasta in coma indotto per tre mesi, si è svegliata e incapace di vedere, riusciva a malapena a parlare e muoversi, aveva bisogno di 38 operazioni per riprendersi, ma la cecità la rendeva completamente dipendente. Un team di chirurghi statunitensi ha eseguito un trapianto di cornea nell'occhio sinistro ed è stato in grado di riacquistare la vista, purtroppo non c'era soluzione per salvare il suo occhio destro. Il trapianto di cornea l'ha aiutata a leggere gli spartiti e a tornare a suonare il piano e ad insegnare la musica come aveva sempre fatto. Successivamente, nel 2013, ha ricevuto un trapianto di viso, anche se Carmen non vedeva bene, è tornata indipendente, camminava con il suo bastone e grazie a un software speciale è riuscita a leggere. L'11 novembre, Carmen si è svegliata con la vista offuscata e ore dopo la persa completamente. I medici hanno scoperto che aveva contratto un'infezione che ha colpito la sua cornea sintetica e la retina. Si stima che in sei mesi possa ricevere un altro trapianto di cornea. I membri della sua famiglia stanno raccogliendo fondi tramite GoFund, hanno raccolto 10.543 dollari finora. Carmen non sarà in grado di ricevere un reddito economico come aveva fatto prima, mentre il costo delle sue cure e dei suoi farmaci aumenta, ha detto uno dai suoi parenti. Nessuna donazione è troppo piccola e ogni donazione andrà al recupero di Carmen che non dovrà preoccuparsi di perdere tutto mentre cerca di tornare alla vita che aveva. Ci auguriamo che riescano a raccogliere i soldi necessari affinché Carmen riceva un'altra opportunità, recuperi la sua visione e abbia una vita normale grazie al sostegno della sua famiglia e alla solidarietà di tante persone. È impegno di tutti condannare la violenza di genere, nessuno merita di essere vittima di un crimine atroce come quello che ha trasformato i giorni di Carmen in un incubo? Condividi le alza la voce contro gli abusi. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni. Benedizioni.